Lo sviluppo delle politiche turistiche con riferimento al ruolo strategico dei parchi regionali. È stato il tema affrontato con una serie di audizioni in seconda commissione consigliare. Per il consigliere Braia l'obiettivo non è tanto parlare delle singole attività che si vogliono fare, ma comprendere cosa si ha in programma in termini di condivisione e come si pensa che si possa condividere il tutto con l'APT. L'idea della commissione è quella di stilare entro settembre un accordo, un protocollo di collaborazione ufficiale tra i parchi regionali e l'APT, perché si arrivi a definire, su alcune attività identificate, quasi un documento che impegni nella programmazione e nella realizzazione le risorse finalizzate a questi obiettivi. La finalità è quella di intessere un'azione sinergica che possa mettere insieme una vera integrazione tra l'APT e i vari parchi regionali. Considerata anche la situazione finanziaria della Regione, dovremmo evitare di immaginare la programmazione di attività simili che si sovrappongono. Così il consigliere Sileo. La necessità di raccordarsi con la Regione sulle iniziative di comunicazione e marketing è stata sottolineata dal direttore dell'APT Nicoletti, il quale ha comunicato che la campagna di ripartenza dopo il lockdown è dedicata alla Basilicata Verde. Stiamo promuovendo, ha detto, con messaggi mirati sui social e sui giornali nazionali, la Basilicata Interna, quella dei borghi, dei parchi. La Basilicata Verde, appunto.